Ciao a tutti ragazzi, sono Molly di Rebby e Molly, ma oggi sono solo io Molly, perché oggi ragazzi faremo un video incredibile, spaventeremo la Rebby per 24 ore. Mi chiederete, ma come la Rebby ormai ha vent'anni, non si spaventa più? Non è vero perché ha paura ancora dei fantasmi, dei mostri sotto il letto, però per farle più paura, le farò paura con questo. Questo mostro che sentite se lo muovo che cosa fa? Aiuto! Quindi la spaventeremo, sentite, manzanche! Quindi noi le salteremo di soppiatto da dietro e le faremo e prenderà un sacco paura, quindi devo escogitare il piano, magari mi metto sotto, non so, sotto una coperta e faccio finta. Aiuto Rebby, mi ha preso un mostro! E comunque sia voi lasciate un like se non volete essere morsi dal mostro! E ragazzi è al computer! E' il mio nuovo amichetto! E' il mio nuovo amichetto! Mettilo subito via! No, no, dai! Dammi il mio cuore! Fa paura a quel coso! Eh, lo so, però mamma mia! Hai preso paura? Ammetti che hai preso un sacco di paura! Sì, ho preso un sacco di paura! No! Senti il mio cuorecino, come fate forte! Mamma mia, perfetto, siamo riusciti a farle paura! Beh, me volevi fare un altro scherzo dei tuoi, quindi? Ma te l'ho fatto lo scherzo, Rebby! Ma, ah, mi fa paura quel coso! Tieno lontano da me! Va bene, va bene! Io e il mio coso andiamo via! Ok ragazzi, perfetto! Le abbiamo fatto un sacco di paura! Adesso lascio il nostro mostricciattolo qui! Metto la coperta dei creeper! La metto proprio qua sopra! Ecco, la mettiamo qua! Giriamo tutto bene! Vediamo, così appena arriva lo muove e prende un sacco paura! Ok, adesso aspettiamo, mi metto in un punto dove... Vediamo, vediamo, la metto qua! Rebby! Eh? Lei l'hai lasciata a te la coperta sul tavolo? Quella no, l'avevo messa qui! Eh, spostala! Adesso la piego, aspetta, la devo spostare, è tutta a mucchiazza! Ma ancora qualcosa? Ma dai, dovevi muoverlo! Purtalo via! Adesso questo te l'ho putto nel vidore! No, 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 sai quanti soldi l'ho pagato? No, oh! Non mi interessa quanti soldi l'hai pagato! Basta, nel vidore! Ma il mio dinosaurio! Non sai che ho paura dei mostri? Mi fatterebbe paura! Ma quello è un dinosauro, non è un mostro! Sì, ma fa... Ah, hai paura, eh! Non mi piace! No, buttalo via! Oh, dai! Sì, buttalo via! E non vuoi a te se mi fai un altro scherzo? Ah! Mi ero dimenticata che me l'avevo buttato nel vidore! Molly! Buttalo via! Vado a buttare via! Mi fa troppo paura! Cioè, allora, mi dispiace che tu l'avevo buttato nel bidone, però tu sei un po' troppo... Guarda che occhi che hai! Guarda, 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 guarda di troppo più! Ragazzi, come lo possiamo chiamare il nostro dinosauro? Mordicchio! Sì, lo chiameremo mordicchio! Eh, no, mordicchio! Lasciami l'orecchio, porca miseria! Mi ha preso l'orecchio, porca... Allora, Alcuzza, adesso la Reby forse è andata a farsi un riposino e io e Mordicchio andiamo a fargli visita! Eccola! E lì, vai Mordicchio! Sei pronto? Sei pronta a morderla? 3, 2, 1... Ah! Molly, non mi sono lì, è bruttissima! Ma sei te? Basta con questo qui, mistero! Mi stai facendo paura tutto il giorno, basta, lo butti nel bidone, per favore, ti decidi a buttarlo? Ma come? Ma mordicchio è un membro della famiglia! No, non è un membro della famiglia! Ma che paura, questo cosa! Adesso questo me lo metto... No, ho paura che poi mi mangia la mano se lo metto dentro! Ah, paura? Sì, non mi... Eh, prova a metterla mano dentro! No, non l'ammetto! Dai, non succede niente, prova... Mamma mia, sembra un... Non è che poi non riesco a piattoglierla! Prova? Ah! Cosa? No, non mi fai paura! Riprova, riprova, riprova! Riprova? No! No! Ma dentro ha degli ingranati strani! Ma schifo questo cuore! Degli ingranati! Puttalo via! Ma povero mordicchio! Puttalo via! No, mordicchio sei... Mordicchio, piano, piano, piano! Ma... Accucia! Ah! Ah! Ma cosa fai? Vabbè, come il sinosauro! Ma va a me entra... Ma va a me entra... Non ti voglio più vedere, sei cattivo! Posso entrare, posso? Mordicchio, te la smetti con questo dinosauro! Ma io non sono mali, sono il dinosauro! Adesso ti faccio mangiare dal tuo spesso... No, no, no! Rami! 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 Non ti apro! Piano, non è successo niente, mordicchio! Adesso lo metto dentro il cesto dei panni! Lo mettiamo proprio qua! E si prenderà uno spavento! Molly, hai messo le tue magliette da lavare? Molly! Boh, non c'è Molly! E comunque devo lavare i panni qui... Basta con questo dinosauro! Molly! Che c'è, rapica? Questo c'è! Adesso... Hai ritrovato mordicchio! Chi sa che ce l'aveva messo lì dentro, eh? Senti, è un membro della famiglia ormai! Senti, questo non è un membro della famiglia! Adesso tu lo prendi e lo vai a buttare nel bidone! Ma non ci penso proprio! Vieni, mordicchio! Che cosa ti ha fatto? Vieni qua, vieni! Ecco qua, perfetto! Ah, guarda, fa le fusa! Fa le fusa! Non sono fusa, fai le fusa! Fa le fusa, guarda! Bene, ragazzi! Per oggi è tutto! Così infani, tu e il tuo mordicchio a farmi gli scherzi! Va bene, me la sono cercata, me la sono cercata! Ragazzi, aiuto, lasciate un like! A domani! Ciao! 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 Ciao!